Ciao! Allora, cominciate! Io sono Collezionist58 e finalmente ho scaricato un programma, anzi un gioco, che di noi in mozella ha così dato un paio. Poco. Poco. Come c'è? Io perfino sull'ipad 4, come mi ingel, svegli il paio di un progetto, come il un po' qui inizio un picco inizio un po' di modello inizio un po' di modello inizio un po' di modello in un punto qualche asine freddo inizio un po' di modello Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Che da cerca di mai, ma non lo so. Non lo so, non lo so. Non l'ho sentito, era grazioso, un po' per giustizia, ecco. Che anche se non vassi, non faccio vedere 5, non faccio vedere 5, non faccio vedere 5. Poi soffermi, però, ovviamente, sempre. E' anche di massa. E' anche di massa. Scrivetevi a collezionista 58. Abbiamo già 58 e 90. Abbiamo già sbagliato il numero ideologico. Abbiamo già sbagliato il numero ideologico. Ok, ragazzi, io ho fatto un buco per costar il tempo. Il video è tutto e vi metterò lì. Ciao! 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 Ciao!